Lo scorso sabato è giunto ad Agropoli Elio Brusamento, il 67enne di Padova, che sta facendo il Giro d'Italia a piedi. È stato accolto presso la sede della Croce Rossa Italiana di Agropoli in Viale e Lombardia e successivamente dal primo cittadino da Mocoppola presso la Casa Comunale, quindi in seguito è stato accompagnato in visita nei vari punti di interesse della città. Elio Brusamento è partito il 25 aprile 2019 da Trieste. Il suo obiettivo è visitare l'Italia in modo lento, incontrare tante persone e studiare i borghi di confine. Elio prevede di chiudere il progetto a gennaio 2021 quando è previsto il rientro a Udine. Elio, sei partito a piedi per girare l'Italia intera e questa mattina fai tappa nella città di Agropoli. La prima volta che giungi qui ad Agropoli, come è stata la prima impressione? Diciamo che è la prima volta che io arrivo ad Agropoli. Ne avevo sentito parlare di questo paese bello. L'entrata a arrivare dentro ad Agropoli è un paese veramente che è bello da vedere anche se la stagione non è delle più indicate, però è la stagione più bella per vedere tutti i particolari del paese che è bellissimo. Pertanto diciamo che sono stato contento di essersi passato, sono stato contento di essere ricevuto dalla Croce Rossa e spero in questa mia giornata che passo qua da voi di riuscire a visitare più cose possibili perché sono tante cose a visitare qua a Agropoli perché è molto conosciuta. L'idea di girare l'Italia a piedi, che mi ci vorrà circa un altro anno più o meno per fare tutto il mio viaggio, è quella della scoperta dei piccoli borghi, di quelle zone che sono un po' confinanti, sono un po' sperse, un po' diciamo non sono conosciuta dalla gente. Allora il mio scopo è quello di far scoprire alla gente queste belle cose che abbiamo noi, questi bei borghi che abbiamo. Pertanto questo viaggio è basato su questo, proprio la conoscenza del nostro territorio. So che è una piccola cosa, però è una cosa bellissima perché tante persone che adesso mi seguono, quando passo sui paesi nessuno li conosce, adesso sono contento perché c'è te che ci fai conoscere e andremo a visitarli, ecco questo è importante per me. Orgogliosi di ospitare Elio, come cittadina prospiciente sul mare si presume che dobbiamo accogliere tutti coloro che arrivano e noi con grande piacere e onore abbiamo accolto stamattina l'arrivo di Elio. Elio è emozionato da questo arrivo perché ha trovato un calore che lui stesso poi descriverà nell'accoglienza. La Croce Rossa è anche questo, accoglienza e porgere la mano. Nel momento in cui io sono stata chiamata l'altra sera per l'arrivo di Elio ho detto subito di sì, quindi sono felice di accogliere tutti coloro che arrivano nella nostra comunità e nella nostra cittadina. Quello che mi è piaciuto dell'incontro di oggi è il fatto che lui parte da Trieste e racconta di aver trovato la regione Campania diversamente da come immaginava di trovarla, quindi una regione diversa da come si racconta sulla stampa, diversa da come molte persone del nord immaginano che sia. La regione Campania l'ha trovata una regione splendida, accogliente, bella e Agropoli naturalmente tra queste l'ha trovata particolarmente bella. Di questo siamo felici ed orgogliosi e ci fa piacere che lui sarà buon testimone in futuro del fatto che non è come si dice, non è come si racconta delle nostre aree e delle nostre zone. Questa è la cosa che mi ha colpito di più e l'ho ringraziato per questo e gli ho chiesto di essere buon testimone della bellezza dei nostri posti e della nostra città. Realizzerà anche un libro dove appunto cederà la città di Agropoli. Lei lo ha invitato personalmente alla rassegna culturale settembre al castello per il 2022, si spera. Sì, lui terminerà il suo viaggio nel 2021, quindi avrà il tempo di trasformare il diario che sta scrivendo in un libro dove racconterà tutti i posti che ha visitato. Una bella iniziativa che merita una presentazione. Io ho detto quale posto migliore qui ad Agropoli per essere il nostro castello dove ormai la nostra rassegna settembre culturale è diventato un appuntamento importante per importanti scrittori, quindi ci farà piacere ospitarlo per la presentazione del suo libro.